Il focus è sulle imprese del territorio che vengono a narrare la loro storia e vengono a parlare come sopravvivono e evolvono in questo momento di crisi. Partiamo con l'economia della cultura, partiamo con l'evento che verrà fatto qui sul lago di Iseo di Cristo, che è la passerella che collegherà sul Zano a Montisola. Parleremo del risveglio dell'economia locale, parleremo con la fondazione della Franciacorta, una cantina della Franciacorta 1701 fatta da giovani e parleremo di vivacità dell'economia. Angolo dell'educazione finanziaria, l'educazione finanziaria in 5 minuti per dare alcuni spunti di termini che vengono usati abitualmente in finanza. Partiamo con la volatilità, quindi per dare le pillole a chi ci ascolta di educazione finanziaria. Quindi vi aspettiamo ogni mercoledì alle 21.45 con le imprese e il suo territorio.